Ok, io non so neanche cosa dire, è tutto improvvisato, poi quanti tempi? Non ce ne ho mai dire più Prima volta su YouTube, comunque, prima volta su YouTube Qua no, qua si, poi devo montarla insieme E' meglio sulla dire Eh no, il risultato è meglio, ma a me è tutto improvvisato Tutto improvvisato, l'improvvisazione a volte è più bella che la recitazione che uno sta lì, ciao, gli ammiglia, quando è bella E' più spontanea, dai Ci abbiamo già un problema, eh Siamo appena partito Allora, cos'è? Ci senti? Sì, ci senti, guarda qua Ma va, se fai così, lui Ah! C'ha le onde Ma va, no Sì, spettacolare Ma c'è un... Spettacolo Altro, che nico Guarda me Oh, che ti senti? Ciao tutti amici e benvenuti in questa nuova puntata di... Che cos'è? Cos'è? Cosplay Cosplay By Andrea Io sono Alessandro e lui è Andrea Piacere Il grande amico Andrea E insieme andremo a Luca Comics Io porterò Batman E tu? Arrow Green Arrow Bene, bene Quindi dare una mano ad Andrea a realizzare il costume L'unico problema è che abbiamo acquistato la tua giacca E' arrivata presto Ma ci sono delle piccole differenze sulla descrizione del prodotto Quando è arrivata il colore era completamente... Pessimo Pessimo Se no... Cagare Faceva cagare Quindi nella puntata di oggi vi facciamo vedere come sistemare questa parte del cappuccio Come hai sistemato? Io l'ho fatto insieme Io l'ho fatto da spettatore No, 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 l'abbiamo fatto insieme L'altro che... Fai il modello Fai il modello dell'anghies Ah che bello Con i bottoni Dove ci attacchi il cappuccio Noi ci abbiamo messo anche un bel velcro Così si appiccica bene Bella aderente Bella Mentre la parte in tessuto Terribile Vabbè Abbiamo la versione finale Ecco Questa è la versione che abbiamo fatto noi Finale Quindi la versione bella Questa è la versione bella Con tutte le definizioni Colorato bene Va fatto Peccato che non abbiamo la foto di quella vecchia Terribile Horrible 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 Mettiamola qua Quindi Tutti quelli che hanno acquistato questo tipo di giacca Guardatevi il video Un metodo velocissimo per sistemarla Invece se siete intenzionati a comprarla Non prendetela Vi lascio il link in descrizione Ma io oppure ho mando 3 indietro Ho mando 3 indietro Con tanti insulti Con tanti insulti Vi lascio il link in descrizione E la cosa bella E che insieme c'era anche la faretra Il portafrecce Che è totalmente diverso da quello che c'era descritto Via Parola via Sembra una borraccia Sembra una borraccia Eccola qua Piccolissima Ovviamente piccola Che frecce ci stanno qua Facciamo anche questa dai 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 No No la facciamo insieme Il problema suo che si sottovaluta André Facciamo vedere come l'abbiamo fatto Forza Allora All'attacco Ciao ragazzi Allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.